A Taranto sono già operative le nuove reti ultra broadband di Telecom Italia. Il capoluogo ionico, grazie ad un investimento di 5 milioni di euro da parte del principale gestore di telefonia fissa e mobile, si colloca all'avanguardia in Italia per rete di fibra ottica che raggiunge il 75% dei cittadini e per la copertura mobile con 4G+, che va anche oltre. In parole povere, la velocità dei collegamenti si raddoppia. Delle novità ha parlato nel corso di una conferenza stampa nel municipio di Taranto, Francesco Scagliola, responsabile manutenzione del network in Sud Italia. Ascoltiamo. Velocità di accesso ai servizi, disponibilità di servizi in rete sempre più moderni e sempre più innovativi, sia sulla rete fissa dove abbiamo una capacità di 30 megabit in download, sia per quanto riguarda la rete mobile dove a Taranto abbiamo realizzato, tra le prime città d'Italia, la rete LTE Advanced, che è qualcosa in più della rete 4G. Infatti noi la chiamiamo 4G+, in quanto consente delle velocità, addirittura il doppio delle velocità del normale LTE.